Allora, grazie Presidente. Quest'ordine del giorno è un ordine del giorno che già in parte ho illustrato nel mio intervento generale e ha tre punti in particolare. Il primo è quello con cui impegniamo l'amministrazione a proseguire nel programma Reinventiamo Roma, individuando ulteriori immobili e compendi che possano entrare a far parte di questo programma nel seguito. E ovviamente devono essere immobili che siano in uno stato e in una condizione di degrado, sottutilizzo e abbandono tali da essere adatti ad un percorso di valorizzazione e questi immobili dovranno essere individuati con il coinvolgimento sia dei municipi che dell'Assemblea Capitolina. Poi impegniamo l'amministrazione a valutare, come dicevo prima, anche la possibilità di fare accordi o intese con altri enti coinvolgendo regioni, province e comuni per individuare il patrimonio anche di questi enti e delle società ad essi partecipate, che possano a loro volta far parte di Reinventiamo Roma e infine di adottare tutti gli atti necessari a creare e a strutturare un ufficio che sia di supporto a queste attività, finalizzato proprio a seguire tutte le attività necessarie durante le fasi relative alle procedure sia concorsuali che concorrenziali riguardanti proprio ambiti di rigenerazione urbana. Questo è un ordine del giorno di carattere quindi molto generale che però indica una linea molto chiara e precisa e che viene fuori anche dal dibattito e dalla discussione che abbiamo fatto nel corso delle commissioni. Grazie.